Non è bastata la regola delle due G, dalle iniziali di due parole che in tedesco indicano i guariti dal covid e i vaccinati per impedire il ricorso al lockdown. E così in Austria da lunedì prossimo andrà in vigore la drastica misura per contrastare la quarta ondata della pandemia. Sono consapevole che stiamo chiedendo un grande sacrificio alle persone vaccinate, afferma il cancelliere Schallenberg. Dovranno affrontare di nuovo le restrizioni perché troppi tra noi hanno mostrato mancanza di solidarietà. Il confinamento terminerà in automatico il 13 dicembre per quanti sono vaccinati o guariti dal covid ma resterà in vigore per chi non è immunizzato. Poi a partire da febbraio nel paese, primo fra gli stati dell'Unione Europea, scatterà l'obbligo vaccinale per tutti. Si tratta di una misura tranquillamente applicabile quando è in corso una pandemia, spiega Schallenberg, che in proposito ha avuto la conferma del servizio costituzionale austriaco. La situazione critica anche in Germania, che registra un nuovo record di contagi, mentre cresce l'indice settimanale di ospedalizzazione per covid-19. Siamo in un'emergenza nazionale, nessuna misura, avverte il ministro della salute Jens Spahn, può essere esclusa, neppure lockdown generale. Il provvedimento tuttavia è già in vigore fino a metà dicembre in Baviera, che dovrà quindi rinunciare ai tradizionali mercatini di Natale.